Ci sono casi nei quali la maternità ha portato ad una penalizzazione a livello lavorativo o casi di donne che pur volendo una gravidanza consapevoli delle conseguenze e delle ripercussioni professionali e nel mondo del lavoro ci rinunciano? E' questo il leitmotiv che ha spinto la Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei Giornalisti della Campania ad avviare un progetto esplorativo che proverà a tracciare un quadro di contesto legato al clima di pressione, all'instabilità e al senso di colpa in tutte quelle donne che rinunciano alla maternità. Rinunciano a mettere al mondo un figlio. Come primo atto dopo il suo insediamento la Commissione ha realizzato un'indagine destinata alle iscritte all'Ordine dei Giornalisti della Campania che vuole essere un primo strumento di conoscenza e di analisi circa le ricadute sul lavoro legate alla libera scelta di vivere la maternità anche adottiva. Si tratta di una ricerca sul fenomeno motherhood penalty, letteralmente pena di maternità, un complesso di condizioni sfavorevoli per le donne, giornaliste in questo caso, che decidono di avere un figlio. Da un primo sondaggio esplorativo è emerso che ci sono casi nei quali la maternità ha portato ad una penalizzazione a livello lavorativo. Al fine di giungere ad un report supportato da dati oggettivi, la Commissione Pari Opportunità intende promuovere una campagna di sensibilizzazione sul tema e raccogliere tutte quelle segnalazioni utili. Il questionario, che garantirà l'anonimato per coloro che lo richiederanno, consentirà a riunire gli elementi necessari per un'analisi con l'aiuto di esperti di sociologia e statistica di Atenei. Il sondaggio sarà divulgato nei prossimi giorni su una piattaforma online e potrà essere compilato ed inviato alla Commissione, che al termine dell'analisi da parte degli esperti pubblicherà i risultati in un documento ufficiale che sarà divulgato il 25 novembre prossimo. I dati saranno riportati in una relazione finale. Il progetto, infatti, mira l'inserimento di un articolo di tutela delle madri giornaliste nel testo unico dei doveri del giornalista. «Motherhood penalty condiziona la vita di una donna costretta a fare scelte importanti e spesso anche dolorose, come rinunciare alla maternità a causa del lavoro», ha spiegato Titti Improta, presidente della Commissione Pari Opportunità dell'Ordine dei giornalisti campani. Ecco perché continua «dedichiamo questa giornata alle donne e alle madri in fuga dalla guerra in Ucraina in nome della pace e della libertà di scelta delle donne». Donne sofferenti ma nello stesso tempo fiere e dignitose, pronte a ricostruire una vita per i loro figli, lontano dalla loro terra e dai familiari. Il diritto di lavorare degnamente e con rispetto, anche se si diventa madre, è la prima istanza pacifista in tutta la storia delle rivoluzioni culturali e lavoriste. È partita dalle donne ma si concretizza in tutti i settori. Questa è la volta del giornalismo, ha affermato il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, che ha presentato il sondaggio studio promosso dalla Commissione Pari Opportunità. Lo ha fatto oggi, 8 marzo, giorno in cui si ricorda la morte delle 123 operaie nell'incendio di una fabbrica a New York nel 1911 e si celebra anche l'onore alla resistenza delle donne ucraine, madri che combattono o mettono al riparo i loro figli. Grazie. Grazie.